Come potete vedere, sicuramente dopo alcune segnalazioni che sono arrivate, le immagini sono diventate virali sul web, ecco l'elicottero delle forze dell'ordine che presidia le zone dello Sperone. E per tutta la risposta lo Sperone risponde con i fuochi d'artificio, fantastico, momento veramente trash, veramente straordinario. Ecco per tutte le risposte. Che vergogna, solo che vergogna, meritiamo l'estinzione.